In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria Sede Sapientiae. Ora Pronobis. Continua la vita di San Benedetto, scritta da San Gregorio Magno. Nono episodio Ancora sulla profezia A questo proposito c'è ancora dell'altro. Il Vescovo di Canosa aveva la consuetudine di recarsi a visitare il servo del Signore, e l'uomo di Dio l'amava molto per la santità della sua vita. Mentre parlava con lui dell'invasione del re Totila a Roma e del saccheggio della città, Il Vescovo disse Questo re distruggerà la città in modo tale da renderla per sempre inabitabile. L'uomo di Dio gli rispose Roma non sarà sterminata dai barbari, ma colpita da tempeste, folgori, uragani e terremoti, andrà da se stessa in rovina. L'arcano di questa profezia si è fatto ormai più chiaro della luce per noi, che ora vediamo nella città, le mura sgretolate, le case diroccate, le chiese distrutte dalle bufere e gli edifici, già faticenti per il peso degli anni, crollare a terra in crescente rovina. Tuttavia, onorato, il suo discepolo che mi ha riferito la cosa, dice di non avere mai udito questa profezia direttamente dalla bocca di Benedetto, ma da alcuni fratelli che la testavano. In quel tempo un chierico della chiesa di Aquino era tormentato dal demonio. Costanzo, il venerando vescovo di quella chiesa, l'aveva inviato a numerosi santuari di martiri perché ottenesse la guarigione. Ma i santi martiri di Dio non gli fecero il dono della salute, volendo che invece si manifestasse la straordinaria grazia di Benedetto. Il chierico fu dunque condotto da Benedetto, servo di Dio Onnipotente, ed egli, pregando con fervore il Signore Gesù Cristo, scacciò immediatamente dall'ossesso l'antico avversario. Dopo averlo risanato lo ammonì, dicendo, «Va, e non mangiare più carne, non osare mai accedere agli ordini sacri, perché il giorno stesso in cui tu avessi la temerarietà di accedervi, subito torneresti schiavo del demonio». Il chierico guarito se ne andò, e intimorito, com'è naturale, per la prova di recente subita, osservò per qualche tempo le prescrizioni dell'uomo di Dio. Ma dopo molti anni, quando vide che tutti i più anziani di lui erano morti, e che i più giovani lo sorpassavano nella carriera ecclesiastica, trascurò le parole del santo, e come se con il passare del tempo le avesse dimenticate, si fece ordinare. Subito il diavolo che lo aveva lasciato se ne impadronì, e non cessò più di tormentarlo fino alla sua morte. «Pietro, quest'uomo di Dio, come vedo, penetrò persino ai segreti divini. Infatti, egli conobbe che il chierico era stato consegnato al diavolo affinché non osasse accedere a un ordine sacro. Gregorio, perché mai egli non avrebbe dovuto conoscere i segreti di Dio dal momento che osservava i divini precetti? Sta scritto, infatti, «Chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito». Pietro «Se chi si unisce al Signore diviene un solo spirito con lui, perché allora lo stesso grande apostolo dice «Chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore?» «O chi mai è stato suo consigliere?» Mi sembra, infatti, una incongruenza ignorare il pensiero di colui con il quale si è divenuti una cosa sola. Gregorio, i Santi, in quanto sono uno con il Signore, non ignorano il pensiero di Dio. Dice, infatti, lo stesso Apostolo, «Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui?» Così anche i segreti di Dio nessuno mai li ha potuti conoscere se non lo spirito di Dio. Ecco i risultati più rilevanti. E di nuovo dice, «Quelle cose che occhio non vide né orecchio udì né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito». Pietro, «Se dunque le cose di Dio furono rivelate all'Apostolo per mezzo dello Spirito di Dio, perché mai, prima delle parole che ho citato, aveva detto, «O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto sono imprescrutabili i Suoi giudizi e inaccessibili le Sue vie». Ma mentre dico questo, mi sorge un'altra domanda. Il profeta Davide, infatti, rivolgendosi al Signore, dice, «Con le mie labbra ho annunziato tutti i giudizi della Tua bocca». Orbene, dal momento che conoscere è meno che annunziare, perché Paolo afferma che i giudizi di Dio sono incomprensibili, mentre Davide attesta non solo di conoscerli, ma ancor più di averli annunziati con le sue labbra? Gregorio, alla Tua duplice difficoltà ho già risposto sopra, in breve, quando ho detto che i Santi, essendo una cosa sola con Dio, non ne ignorano il pensiero. Infatti, tutti coloro che seguono il Signore con piena dedizione, in forza di questo, gli sono uniti. Tuttavia, essendo pure ancora gravati dal peso di un corpo corruttibile, non sono ancora con Lui. In quanto uniti a Dio, essi conoscono i Suoi segreti pensieri, ma in quanto ne sono separati, li ignorano. Poiché non penetrono ancora perfettamente i segreti di Dio, attestano che i Suoi giudizi sono imprescrutabili, ma in quanto li sono uniti per mezzo dello Spirito e di conseguenza mediante l'istruzione delle sacre scritture o per segrete rivelazioni, ricevono luci, conoscono queste cose e le esprimono. Ignorano, cioè, i giudizi che Dio tace, ma conoscono quelli che Egli pronuncia. Ecco perché il profeta Davide, dopo avere detto «Con le mie labbra ho numerato tutti i giudizi», si affretta ad aggiungere della tua bocca, come se dicesse chiaramente, «Ho potuto conoscere e pronunciare quei giudizi che sapevo che tu avevi detto». Infatti quelli che non hai detto rimangono senz'altro nascosti alla nostra conoscenza. La sentenza del profeta e quella dell'Apostolo si accordano dunque perché i giudizi di Dio sono imperscruttabili, tuttavia quelli che sono stati rivelati dalla sua bocca possono essere pronunciati da labbra umane. Possono insomma essere conosciuti dall'uomo dall'uomo solo quelli che Dio ha rivelati, non quelli che egli tiene ancora segreti. Pietro, grazie alle difficoltà che ti ho esposto col mio piccolo dubbio si è evidenziata la fondatezza della tua esposizione. Ma ti prego, se c'è altro da dire sulla virtù di quest'uomo, continua. Gregorio un nobile di nome Teoprobo convertito a vita fervente dietro esortazione dello stesso padre benedetto godeva di grande familiarità con lui che lo stimava per la sua vita santa. Un giorno Teoprobo entrò nella cella dell'uomo di Dio e lo trovò che piangeva amaramente. Attese a lungo, poi vedendo che le lacrime non cessavano e che il santo non piangeva al modo che gli era consueto mentre pregava ma con lacrime di dolore gli chiese quale fosse la causa di tanta sofferenza. L'uomo di Dio rispose tutto questo monastero che ho costruito e tutte le cose che ho preparato per i fratelli sono destinate per volontà di Dio onnipotente a diventare preda degli infedeli. Astento ho potuto ottenere che da questo luogo possano uscire in columi le vite dei miei monaci. Quello che allora Teoprobo udì noi ora lo vediamo già accaduto perché sappiamo che il suo monastero è stato recentemente distrutto dai Longobardi. Infatti poco tempo fa di notte mentre i fratelli dormivano i Longobardi vi entrarono saccheggiarono tutto ma non poterano prendere nemmeno un uomo. Dio onnipotente mantenne quanto aveva promesso al suo servo benedetto di consegnare cioè agli infedeli le cose materiali ma di salvare le persone. Mi sembra che in questo caso sia toccata benedetto la stessa sorte di Paolo quando la nave su cui viaggiava perdette tutto il carico ma egli ebbe la consolazione di vedere salvi tutti i suoi compagni di viaggio. Una volta il nostro esilarato che tu pure hai personalmente conosciuto quando era già monaco fu mandato dal suo padrone a portare in monastero all'uomo di dio due recipienti di legno chiamati comunemente fiasconi pieni di vino. Ne portò uno ma l'altro strada facendo se lo nascose. Il servo del Signore cui le azioni compiute di nascosto non potevano restare segrete ricevette con gratitudine quell'unico bariletto ma al giovane che si allontanava diede questo avvertimento sta attento figlio di non bere a quel fiascone che hai nascosto inclinalo invece con precauzione e vedrai che cosa c'è dentro. Pieno di confusione il giovane lasciò l'uomo di dio al ritorno volendo accertarsi su quel che aveva udito piegò il fiascone subito ne uscì un serpente scosso da quanto aveva trovato nel vino esilarato fu preso da grande timore per il male commesso non lontano dal monastero c'era un villaggio in cui buona parte dei suoi abitanti era stata convertita dal culto degli idoli alla fede in dio grazie allo zelo di benedetto vi si trovava pure una piccola comunità di religiose e il servo di dio si dava pensiero di mandare loro con frequenza i suoi monaci per spronarle nella vita spirituale un giorno come di consueto mandò un monaco il quale dopo aver fatto la sua esortazione pregato da quelle religiose accettò alcuni fazzoletti e se li mise in seno ma appena fu rientrato l'uomo di dio profondamente afflitto incominciò a rimproverarlo dicendo come mai ti è entrata in seno l'iniquità ma quegli dimentico di quel che aveva fatto rimase stupito e non riusciva a capire perché cosa lo rimproverasse allora il padre gli disse non ero forse lì presente quando hai accettato i fazzoletti delle serve di dio e te li sei messi in seno subito il monaco si gettò ai suoi piedi pentito per essersi comportato da stolto e buttò via i fazzoletti che aveva nascosti in seno sia lodato gesù cristo sempre sia lodato in nomine patris et fili e spiritus santi amen